l'elemento fondamentale per la salute della mamma e del bambino. A facoltà di replicare il deputato Ottobre. Grazie signora Ministra, ma magari vengo giù e parliamo un attimo in privato, perché io volevo sapere anche se era vincolante o meno questo parere, perché credo che la provincia autonoma di Trento abbia trasmesso dei dati non completi, perché se parliamo di sicurezza credo che ci sia l'esatto contrario, perché le strade, dicevo prima, di accesso ci vogliono 4-5 ore, quindi è evidente che abbiamo anche dei casi dell'ultima settimana dove delle mamme hanno partorito e hanno aperto la sala party di notte, alle 2 di notte, assumendo le responsabilità del medico, perché in quel momento doveva nascere il bambino. Quindi siccome che nessuno, non possiamo pretendere che i bambini crescano ad orologio a tempo, quindi è evidente che qua c'è un problema di evidentemente anche passaggio di documenti istituzionali, perché è veramente la nostra comunità dell'Alto Garda e l'Ideo, veramente non riesce a capire questa sia il tanque proprio per la sicurezza, questo è evidente. Grazie, signor Ministro. Ringrazio. Passiamo all'interrogazione numero 32408 dei deputati Binetti ed altri concernenti iniziative per il monitoraggio e l'applicazione della legge numero 194 del 78 al fine di garantire il diritto all'obiezione di coscienza e del personale sanitario. La deputata Paola Binetti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione da un minuto. Tre date. 11 aprile la CGL presenta un esposto al Comitato per i diritti sociali, accusando il Ministero della Salute di non garantire sufficientemente il cosiddetto diritto all'obbotto, che in quanto diritto non esiste, accusando in quanto tale il personale obiettore di coscienza di sottrarsi a responsabilità concrete, di caricare sui medici non obiettori di coscienza un surplus di lavoro francamente non tollerabile e quella che peraltro invece è una constatazione...